Buongiorno, questo è il primo video di un esperimento e forse farò questa serie più spesso. Un po' più di due ore che ho sviluppato, che ho avuto l'idea di questo concetto. Il concetto è nato, mi sono svegliato stamattina e ho pensato ok, adesso da quasi esattamente sei mesi che ho questo canale YouTube che si chiama Happy Active Healthy 100 Plus, vuol dire che felice, attivo, sano, cento anni e più. Vuol dire alla fine che vivere in un modo sano e felice, molto attivo, più a lungo possibile. Una cosa se lo dici così, diciamo tutta la gente dirà ah sì, vero, questo sarebbe il miracolo, questo sarebbe il paradiso e nessuno lo fa. perché io ho proposto questa idea a diverse persone e la maggior parte delle persone dice sì, bello, ma non ce la faccio. Io sono molto brutale, quando sento ok, tu non sai fare questo, ok, dico ok, non sei uomo perché un uomo ha la sua cognizione, ha il suo cervello intellettuale che è razionale, così, per dire ok, io voglio raggiungere questo obiettivo, lo farò, no? Se tu non riesci, forse sei più vicino all'animale che dice oh, io voglio questo, 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 no? che va anche bene, noi siamo animali dentro e siamo, diciamo, persone. Noi abbiamo Einstein e, adesso non lo so, Genghis Khan, entrambi, o anche un schimpanzi dentro di noi, no? Un gorilla, no? Che se parliamo adesso dei maschi, un gorilla che è un mostro, che può strappare i suoi nemici, che sono, non so, che sono anche della stessa specie. e lui li può strappare, lui può strappare bambini, piccoli cuccioli che non sono di lui, che li strappa e li mangia, no? E noi siamo tutti due, no? E questo lo sentiamo sempre, per esempio, nel tempo del Corona o tempi del, non so, 1933, quando i nazionaldemocrati, i nazionalsocialisti, non democratici, socialisti sono andati a potere in Germania che, alla fine, la maggior parte della popolazione ha tirato i sassi dentro i negozi dei ebrei e poi, poi, interessante, che dopo la guerra tutti dicevano, no, 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 non sono stato io, no, 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 e seguivano un altro Führer, no? che era, forse, in questo caso, l'economia e Adenauer e tutto quanto. Perciò, noi uomini abbiamo il Vecchio Testamento dentro di noi ma anche il Nuovo e quando tutto in pace, no, quando il nostro cervello rettile e tranquillo, noi siamo più Testamento Nuovo mi sono dimenticato di mettere il mio uovo che mi serve come orologio perché voglio limitare questo video a 15 minuti così uso questo uovo qua che adesso tra 12 minuti suona ok, vuol dire che noi siamo perso un po', sempre questo uovo perdo un po' il filo noi abbiamo il Nuovo Testamento dentro e la cosa interessante è quando siamo tranquilli noi diciamo sempre oh sì, il Nuovo Testamento noi siamo molto gentili e verso di... no, non lo siamo noi siamo soltanto se il nostro cervello rettile è tranquillo, no? e invece se il nostro cervello rettile dice oh, 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 siamo in una situazione che non conosciamo, no? Jordan Peterson lo dice unknown territory vuol dire un territorio sconosciuto a noi esce, diciamo, il discomfort, no? che non ci sentiamo al nostro agio e noi diciamo forse abbiamo paura e quando esce questa cosa della paura sono diverse cose che succedono soprattutto nel nostro cervello voglio spiegarlo nel nostro cervello vuol dire che questa è la parte di unknown territory, no? dove noi qui nella foresta diciamo questo è tutto per me sconosciuto ma non ho paura perché dico ma cosa può succedere, no? ci sono i leoni o i tigri o i lupi non ci sono no? perciò io sono tranquillo completamente tranquillo ma se noi fossimo dentro diciamo una gabbia di tigri io sarei diciamo sarei un po' più stressato e la cosa che succede è quando io sono dentro una tana e la tana è la mia casa è la mia maschera corona e diciamo è un'area protetta che diciamo il grande dittatore che mi dice che tu sei tranquillo sia tranquillo noi facciamo tutto noi siamo grandi tu sei io mi prendo cura di te vuol dire che tu non devi pensare a esplorare questo territorio sconosciuto questo territorio sconosciuto può essere una cosa per esempio matematica per bambini spesso così matematica a me non piace perché hanno un territorio vuol dire che non entrano a pensare alla matematica e queste persone purtroppo rimarranno sempre dei imbecilli non imbecilli delle persone incapaci della matematica perché perché non permettono per la paura non permette che loro pensano dentro questo settore che stabilisce la matematica nel loro cervello perché questo crea sempre una cosa di paura non lo so io vado piuttosto guardarmi un video netflix o un video youtube sui gatti no che molto più molto più bello e mi mangio ancora una burger e un po' di chips no patattine ok adesso sono arrivato a un proprio c'è un molto centro forse è una cosa molto complicata che io cerco di spiegare in un modo molto molto facile perché certamente per capire come si pensa come il cervello funziona si deve studiare un po' la diciamo come un sistema di reti neuronali pensano attraverso associazioni che usano i neuroni che sono collegati con altri neuroni e quando attraversa diciamo che vengono stimolati questo è un pensiero e questo pensiero diciamo crea un altro pensiero e crea un altro pensiero ancora e questo è il modo di pensare e solo quando noi pensiamo vuol dire quando abbiamo questi neuroni che diciamo attraversano diciamo i segnali che attraversano questi neuroni cambiano il modo in cui pensiamo perciò se noi abbiamo dei tabù vuol dire che c'è un cartello davanti a un un'area del nostro cervello area un po' virtuale un po' complicato per spiegarlo adesso ma pensiamo di un'area del cervello dove noi non entriamo e vuol dire che rimane inalterato vuol dire questo non viene cambiato e questo vuol dire un tabù crea che il tabù sia ancora più forte io non sono capace di fare la matematica crea che io non entro mai in questa zona dove la matematica dove io potrei aumentare i miei concetti non lo so ci sono diversi leggi della matematica io non li potrei mai raggiungere perché io non permetto al mio cervello pensarci dentro perché c'è un cartello davanti a questo settore questi pensieri che dice non entrare e questo spiega tutto spiega veramente tutto spiega corona spiega dei tabù e così via no ok adesso tornando al diciamo all'idea che avevo stamattina e la cosa è che dicevo che ci sono poche persone che 24 abbonati no sul mio canale youtube nonostante che ho 120 110 video ben 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 ricercati lì dentro ci sono anni di ricerca no che a nessuno interessa e perciò mi sono svegliato stamattina ho pensato forse devo cambiare un po' il concetto anche quello che era anche dietro era anche per capire me stesso perché devo sempre dire tutto quello che faccio no happy happy healthy 100 plus no vuol dire che vivere in modo felice sano più lungo possibile questo è per me certo perché voglio vedere crescere la mia figlia voglio vedere voglio andare a giocare a calcio con i miei nipotini e così via no più a lungo possibile e più attivo possibile ma adesso ho perso perché ho pensato a una cosa emozionale ok che questa cosa lo faccio per me stesso no per me ma la cosa interessante è io lo voglio come questa idea del social coding o del open source no che arriva dal software programmazione io do a disposizione questa informazione a tutti gli altri no e vuol dire che io voglio che diciamo le persone che mi sono vicino li posso influenzare di più ma con questo canale ho pensato che posso anche influenzare più possibile diciamo tutta anche tutto il mondo no o diciamo la possibilità di influenzare tutto il mondo e per me è una cosa molto molto importante che voglio fare perché non sono un essere umano singolo io sono sempre dentro un ambiente e io dico come una cipolla non so sono diversi strati uno sono io che io e forse anche diciamo il mio cervello e dentro il mio cervello ci sono diversi cervelli vuol dire che dove vado non non ho ben ancora capito chi sono sono un miscuglio di diverse persone e interessantemente Jordan Peterson mi diceva questo che quando io penso ad un'altra persona no io ho quasi un piccolo umettino che corrisponde a questa persona dentro il mio cervello e la cosa fantastica è se io ho un modello del mondo del mondo esterno dentro il mio cervello io posso quasi come un videogioco io posso prendere questo piccolo lui Jordan Peterson lo chiama avatar lo posso mettere dentro il mio mondo virtuale che ho dentro il mio cervello e lui pensa un pochettino gioca un pochettino e vede oh ha vinto no è morto e io posso cambiare senza morire me stesso io stesso no perché vuol dire che i pensieri che io faccio introduco dentro il mio cervello mi permettono che io non devo farli fuori nella natura non devo sperimentarli fuori ma solo il risultato è solo buono se il mio modello del mondo che ho interno il mio cervello corrisponde più o meno al modello del mondo fuori una cosa non facile da raggiungere ok vuol dire che con questo canale io cerco di aumentare la felicità del mondo esterno e per me è una cosa che mi fa andare avanti in un modo molto felice molto motivato e spesso sento dai miei amici con i quali parlo di questa cosa dicono io non posso farlo ma che duro e così via io devo dire che per niente è duro e come diceva già Confucius è il diciamo il sentiero è la vita no è l'obiettivo no lo scopo la destinazione è quasi il cammino per raggiungere questa destinazione e lì voglio tornare anche al sviluppo in modo agile agile development vuol dire che il mio obiettivo può anche cambiare non devo dire io devo diventare miliardaio forse questo obiettivo dopo un anno forse anche dopo tre secondi ma dopo un anno di riflessione dico no 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 aspetta aspetta la cosa che voglio è passare il più tempo possibile con persone che che non pensano uguali a me no ma che io spiro no che mi ispirano che mi danno delle nuove idee perché se io parlo troppo con persone che dicono la stessa cosa che dico io ma cosa imparo niente no e diventa diciamo la brillantezza no di un cervello nasce perché si confronta con diverse diciamo diverse altre opinioni per poi fare una sintesi di cosa è diciamo la risposta a questa boh domanda no a questo non so spesso è a questo come funziona questo meccanismo come funziona il cervello come funziona gli uomini come e così via un ingegnere parla su cose che di solito non crea tante emozioni no proprio profondi del cervello rettile no che l'ingegnere parla no mangiare ce l'ha una moglie o un partner ce l'ha e non deve avere paura perciò in un modo molto tranquillo può pensare delle sue cose no che è una cosa già più difficile se parliamo di cose che sono essenziali per noi per la paura e così via e alcune cose che ho imparato certamente si deve avere una mente sana e un corpo sano e io sono riuscito a creare questo per me stesso nei ultimi anni seguendo diverse regole che adesso 14 minuti scaduti e ho ancora un minuto e adesso ho diversi modi in cui io posso migliorare il mio corpo e in cui posso migliorare il mio cervello e per me è molto molto importante perché forse sono queste due cose il corpo e la mente e certamente crearmi anche un ambiente bello in cui sì forse questo ancora crearmi un ambiente bello oppure forse non esclusivamente e oppure di crearmi anche un ambiente di andare in posti belli in posti positivi non vuol dire che sono posti diciamo lisci e sono posti che non mi piacciono e che scusa che sono troppo sul sofà e mangiare chips no sono delle cose che possono anche sfidarmi che fare una passeggiata o una camminata in montagna di sei ore e di andare proprio al limite può essere una cosa fantastica no non è essere sul sofà e bere il prosecco no questo no questo deve ispirarti e devi darti qualcosa e io sicuramente continuerò con questo questa cosa ma la cosa questo questo esperimento di video ma per me è difficile o devo ancora trovare un modo a strutturare un pochettino l'informazione perché mi giro anche un pochettino questo è un terzo video il primo l'ho fatto in inglese il secondo l'ho fatto in tedesco questo qui in italiano e quello che faccio adesso sarà in francese e diciamo questo volevo dire all'inizio di questo video questa è stata l'idea di stamattina c'è un detto di un rep di Prussia penso che ha detto imparare una nuova lingua è come avere essere una nuova persona o avere una personalità in più e questo io ci ho pensato stamattina ho pensato a questo voglio veramente vedere chi sono e chi sono in tre in quattro lingue ho pensato ehi questo forse una cosa bella questo per me il disastro più grande che abbiamo negli ultimi tre mesi che abbiamo bloccati i campi giochi per i bambini per una cosa fictizia che una influenza grazie del bel ascolto e alla prossima